Continua a salire il numero dei contagiati in Abruzzo, oggi arrivato a quota 663. Si mantiene piuttosto costante la curva di crescita con un leggero aumento odierno che ha fatto registrare non più 76 casi. Di conseguenza continua ad aumentare la pressione sul sistema sanitario regionale. Sono 228, infatti i pazienti ricoverati in ospedale, 52 in terapia intensiva, la maggior parte nella ASL di Pescara, mentre gli altri 325 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, anche in questo caso il maggior numero in provincia di Pescara. Purtroppo aumentano anche le persone decedute, ad oggi 38. 13 invece sono i pazienti clinicamente guariti, diventati cioè asintomatici, e 7 guariti negativi a due tamponi di controllo, numeri al netto delle persone in isolamento domiciliare. Nel mentre i sanitari cercano di affrontare l'emergenza, prosegue incessante anche il lavoro di diagnosi nei due centri regionali, quello di riferimento di Pescara e quello dell'IZS di Teramo. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 3674 test, di cui 2220 sono risultati negativi. Dei casi positivi complessivi, 40 si riferiscono alla ASL Avezzano sul Monalacuila, 129 alla ASL Lanciano Vastocchetti, 370 alla ASL di Pescara e 124 alla ASL di Teramo. Mentre dei 76 odierni, due fanno riferimento alla ASL Avezzano sul Monalacuila, 27 alla ASL Lanciano Vastocchetti, 36 alla ASL di Pescara ed 11 alla ASL di Teramo.